A Ciavia è già nata, ma per pigiare strada a sto zio. Mi, che trocollo brutto che ho avuto. Un'intambi troppo. Se non riusciamo a coinvolgere tutti, qui stiamo sognando solo io e lei. Questa non sarebbe accaduta senza l'allontanamento di Peccini. Anche il babbo era presente al picco insieme a suo fratello a sostenere le acule. C'è da fare i complimenti a Perini perché ha fatto una parata straordinaria su Giazi. Prima di dire delle stranzate. L'allenatore è come il cornuto, è quello della nostra ultima. Uno spezia grintoso e propositivo continua a non fare punti. Ragazzi, la situazione lo sappiamo che è molto particolare, però cerchiamo di focalizzarci sul positivo. Vediamo di rimanere ottimisti. Non siete soli, non siete soli. Stiamo aspettando che la qui lavori non siete soli. 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 Picco sold out. Quindi gli spezzini molto vicini alla squadra si sono fatti sentire. Non siete soli. Stiamo aspettando che la qui lavori non siete soli. Non siete soli. Infatti, il picco ruggisce e la tensione salva. Dopo appena 18 secondi di gioco, il primo cartellino giallo ha sfavore della formazione bianconera. Di quella che viene da Torino. Al picco. È già battaglia. E questo cartellino, per come la vedo io, è proprio merito vostro, ragazzi, del dodicesimo uomo in campo. A proposito, proprio oggi, per la prima volta, ho ricevuto video e foto da ogni settore dello stadio. Dai distinti, queste le immagini che potete vedere da Gianmarco e Cristian. Quindi, grazie mille, ragazzi. Dalla curva non mancano mai le immagini di mio cugino Daniele, quindi grazie Dani. E quest'oggi, per la primissima volta, anche dal settore ospiti. Fantastico! Quindi, se anche voi volete vedere le immagini che collezionate voi quando andate allo stadio, in questo tipo di contenuto, mandatemelo pure all'email, all'indirizzo email che trovate nella descrizione di questo video. E non dimentichiamoci della tribuna! Infatti, forte dei biglietti in omaggio ricevuti da Ray Crowd, anche il babbo era presente al picco insieme al suo fratello a sostenere le aquile. E come potete vedere, in ottima compagnia. Speriamo che il basto rientri presto. Qui al picco, tutto esaurito! Questo video è stato presentato da Agriturismo Colline di Rossoli. Fai del tuo evento un evento speciale. Allora, parentesi goti perché hanno sentito a Begia. Poi, vente hai nico, mi hai avanti perché tanto è finita. C'è chi è dispiaciuto, chi è contento, ma avanti tutta. Siamo passati dallo striscione goti, our special one, all'esonero. Quindi diciamo che è stato un esonero, perlomeno non a furor di popolo. Allora, io cerco di sdramatizzare tra battute e col mio dialetto sporco, perché, dopo tutto, a livello umano, mi dispiace. Però è vero che, nell'ultimo periodo, come già stavo mettendo alla luce tramite i miei video più recenti, era sempre più evidente, anche a noi dall'esterno, che qualcosa, a livello mentale, era cambiato all'interno del gruppo. Quindi, in primo luogo, grazie. Perché Gotti è venuto a Spezia, quando sul tavolo aveva anche altre proposte, al tempo in cui tanti ci avevano snobbato e si pensava addirittura che ci fosse il mercato chiuso. Avevo a disposizione delle alternative. Per come sono fatto io, ha fatto molto la differenza, la sensazione che, invece, lo Spezia cercasse me. Cercasse me come allenatore, cercasse me come persona. Quindi, grazie e, visto che si sono separate le strade, in bocca al lupo per tutto. Chiuso il capitolo sul Gotti persona, per quanto poi sia difficile scendere il lato personale dal lato professionale, perché poi come facciamo le cose dipende dalle persone che siamo. Così come è giusto che, a proposito di tutto, ognuno abbia il proprio parere, perché non vediamo le cose come sono, vediamo le cose come siamo. Detto questo, Gotti si è presentato a Spezia con questo approccio calmo, fermo, sicuro, carismatico e è apparso come l'uomo giusto al posto giusto per il progetto guidato da Peccini, non da Maccia. Si è presentato con questa attitudine, ce lo si vedeva che era un professionista sicuro, che vedeva il bicchiere mezzo pieno, col mercato chiuso di qua e di là, però questo bicchiere nel tempo gli si è svuotato. Ha cambiato la percezione delle difficoltà mano a mano che gli si presentavano. Vi dico, vi posso dire con grande tranquillità, che sono estremamente contento di essere qua. Estremamente contento di essere qua. Io mi ricordo che nella prima conferenza stampa di cui appunto sto proponendo degli stralci mi aveva proprio accattivato il modo così calmo, così sicuro, cioè la tipica attitudine del buono cazzuto, no? Di quello che è meglio non fare incazzare, perché si sa che... Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo! Però penso sia chiaro a tutti, perché è accaduto davanti agli occhi di tutti, che nei mesi trascorsi a Spezia, allo Spezia, questo Gotti abbia un po' subito una metamorfosi. Poi magari questa non sarebbe accaduta senza l'allontanamento di Peccini, con il quale indubbiamente aveva un maggiore allenamento dei valori. Fatto sta che cambiata la percezione degli eventi, degli imprevisti, perché era cambiata la percezione che lui aveva di se stesso, ha subito un deterioramento anche l'attitudine ed il modo di relazionarsi con lo spogliatoio, con gli addetti ai lavori, e così via. E il tutto è sfociato, ora io non sono un esperto dell'analisi del linguaggio del corpo, ma si evince anche dall'esterno questo suo calo di mentalità anche dal suo linguaggio del corpo, dal modo in cui conveniva, comunicava, interagiva anche con i giornalisti. Noi tutti in generale siamo la somma delle nostre esperienze, quindi ogni percorso, che sia positivo, che sia negativo, gli accadimenti, le cose che ci succedono, ci aiutano, se sappiamo poi far tesoro delle cose che ci accadono, anche quelle negative, ci aiutano, ci cambiano, il compito nostro è quello di fare in modo che questi accadimenti ti migliorino. Ed invece, personalmente, a me dall'esterno, è apparso che sia passato dal vedere appunto le potenziali difficoltà con un'ottica ottimistica per potenzialmente trasformare le difficoltà in un'opportunità e un potenziale punto di forza, come spiegava lui. Sembrava estremamente probabile che il mercato sarebbe stato chiuso. Questa cosa, le dico, che non mi ha mai particolarmente spaventato rispetto a questo mercato. Anzi, la prendevo quasi come un'opportunità. Cioè, il fatto che tu hai una rosa a disposizione che si è appena salvata di ragazzi giovani con grande energia, con grande entusiasmo, che però, verosimilmente, non perderai in virtù del fatto che il mercato è chiuso. No, non li perdi. E poi cominciare a lavorare dal primo giorno senza confusione, senza pensare che devi andare a comprare uno che ti serve quell'altro. Ti concentri esattamente sui ragazzi che hai a disposizione. Questa cosa mi piaceva tanto. All'interpretare ogni evenienza come un'avversità, un problema da doversi risolvere. Problema che ha convertito in dubbi, che ha trasformato in timori e che potenzialmente sono anche poi esplose in paure che ha conferito all'interno del gruppo ai giocatori e poi si spiegano quel calo di intensità mentale di cui parla Maccia. L'intensità mentale è quello che ti permetterebbe non perdere una partita nel novantesimo. Che ci ha portato in svariate occasioni a perdere più punti proprio nei momenti più cruciali delle partite laddove in passato sotto guide diverse vedi l'innominato per citarne uno nei minuti finali erano nonostante la stanchezza fisica i momenti di maggiore intensità di gioco proprio perché subentrava la mentalità la dinamicità la volontà il coraggio trasmessi dall'allenatore speculo io percezione mia sbaglierò anzi fatemi sapere il vostro parere nei commenti e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che di solito commentano che sono in crescente numero così come gli iscritti e che quindi aiutano la viralità del contenuto sostenendo il canale grazie mille dando a mister gotti tutti gli alibi del caso a partire dal fatto che è sempre stato prima di tutto un secondo allenatore al fatto che è venuto da una società più consolidata come l'udinese in una realtà piccola che è quella di spezia dove si lotta per la salvezza quindi le pressioni sono superiori pressioni che ci mette il primo allenatore cosa che lui non ha fatto ebbene a fronte di tutto questo il fatto che pecini la sua ancora è venuto gli è venuto a mancare ebbene alla luce di tutto questo nel tempo mister gotti ha sempre più dimostrato di non essere più in grado di offrire al gruppo quella tranquillità quella pace mentale quella grinta quella sicurezza quel coraggio passatemi il termine magari quella motivazione per lottare come lo spezia deve fare che cos'è la motivazione secondo voi sì perché noi dello spezia forti di tutte le nostre mancanze difficoltà svantaggi che dir si voglia dobbiamo metterci proprio quella marcia in più quella cazzimma quella forza mentale che ci permetta di compensare alle nostre mancanze la motivazione è la benzina noi dello spezia i nostri ragazzi dovrebbero devono affrontare ogni singola partita come fosse una finale soprattutto quella in casa se voi avete una ferrari e non avete benzina va avanti no meglio una 500 con benzina quindi capirete bene e saremmo tutti d'accordo che se alla testa della squadra abbiamo un allenatore che ha difficoltà nel trasferire questa grinta alla squadra beh allora non è l'uomo che fa per noi non è l'uomo per il tipo di missione che affronta lo spezia quindi la motivazione è fondamentale è uno degli elementi imprescindibili per crescere una motivazione straordinaria eravamo partiti bene a me piace Gotti è piaciuto quello che ha fatto siamo sempre stati fuori dalla zona retrocessione si è masticato buon calcio a tratti non troppo offensivo perché la mentalità è quella che è però rispetto all'anno scorso del miracolo Motta perlomeno era una squadra più intraprendente più omogenea nelle geometrie tuttavia nei mesi di gestione Gotti dall'inizio a questa parte c'è stato un evidente calo quando la motivazione cala il leader si deve porre una domanda sono io che non riesco più a rinnovarmi e a proporre qualche cosa che emozioni l'altro e che sia di miglioramento per le sue performance e a questo punto arrivo all'argomentare la posizione di Macchia e a difendere non che ce ne sia bisogno la posizione della proprietà perché di stronzate francamente ne abbiamo dette tutti tante c'è gente che dice che con Macchia andiamo in serie B con Macchia si retrocede secchi andiamo in serie B adesso voglio dire Macchia ha un fiorfiore di palmare curriculum che Dio si voglia non ha mai esonerato nessuno prima dell'esonero di Gotti per forza di cose che comunque a pensarci bene sempre questione di percezione no? troviamo che sia strano ingiusto avere esonerato Gotti quando la stragrande maggioranza dei direttori sportivi si spostano a braccetto col proprio o con i propri allenatori quindi la cosa strana non è che Gotti sia stato esonerato la cosa strana è che Gotti sia durato così tanto da settembre a questa parte sotto la direzione Macchia bisogna avere un grande sogno tanto il sogno costa poco no? perché allora sognare in piccolo? la visione del progetto del sogno e come realizzarlo deve essere condivisa da tutti i componenti del progetto stesso ma soprattutto dal direttore sportivo e dall'allenatore creare in questa società a tutti i livelli una mentalità di umiltà ambiziosa se non riusciamo a coinvolgere tutti qui stiamo sognando solo io e lei tutto questo per dire che alla luce dei fatti l'esonero di Gotti non dovrebbe poi essere una cosa così sorprendente tutti noi abbiamo l'ambizione al miglioramento l'ottica deve essere quella del miglioramento evidentemente poi le cose non sono semplici sappiamo che è la bellezza della serie A la grande difficoltà è la bellezza della serie A e però connaturato nel fra virgolette rischio professionale che uno si prende nell'affrontare una sfida di questo tipo c'è anche la possibile soddisfazione proporzionale al rischio e la capacità di realizzare un sogno rendere la vita interessante ed è vero a giudicare dalle sue parole Gotti aveva anche messo in conto che questo sogno avrebbe anche potuto finire male e così è stato per lui speriamo non per noi noi continuiamo a sognare dico magari una cosa scontata ma sotto la direzione Peccini Gotti non sarebbe stato esonerato e benvenga essere sotto la direzione di Macia per come la vedo io quindi chi sarà il prossimo allenatore dello Spezia? a parte il fatto che questo video esce di martedì e lunedì probabilmente avranno già ufficializzato chi è il nuovo arrivo però queste cose lo sapete non le decide l'allenatore l'allenatore è come il cornuto è quello il nostro ultimo parlando della partita di oggi prima di tutto ottimo l'atteggiamento dei nostri ragazzi paradossalmente abbiamo subito più tiri in porta stasera e c'è da fare i complimenti a Perin perché ha fatto una parata straordinaria su Giasi che è giovedì però il calcio è strano abbiamo attaccato più oggi di quanto abbiamo attaccato probabilmente nell'intera gestione Gotti senza nulla togliere il mister Gotti ma è questa la grinta la voglia la cattiveria la decisione che mancava nelle ultime partite e che si pensava fosse quella quell'attitudine che Gotti non riuscisse più a convenire ai ragazzi lo Spezia ha fatto una buona partita soprattutto nel secondo tempo quando ha spinto molto abbiamo visto dal nostro Spezia in campo la risposta mentale che noi tifosi volevamo vedere perché si possono perdere le partite ma bisogna giocarsene tutte focalizziamoci sull'ottimismo perché secondo me il campionato inizia già dalla prossima con l'Udinese e se quelli del Udinese e quelli del Verona hanno visto lo Spezia giocare oggi si aspettano una bella gata da pelare hanno capito se l'allenatore che prenderà le redini della squadra andrà avanti sulla linea che abbiamo visto in campo oggi hanno capito che qualcosa è cambiato hanno capito che siamo i Serie A per rimanerci hanno capito che vogliamo giocare per fare risultato e ci siamo scrollati questa paura di dosso e siamo qui per fare bene questo è quello che volevamo vedere noi tifosi poi sarà quello che sarà se si gioca a calcio con i giocatori che abbiamo sì con i giocatori che abbiamo perché non saranno dei fenomeni non hanno vinto dei mondiali non hanno fiorfiori di esperienza Piazza è una squadra che crea occasione perché ha dei buoni giocatori tecnici davanti sono molto bravi se gli si permette di giocare a calcio con la mentalità giusta con la voglia di giocare a calcio di vincere secondo me si può fare bene perché oggi abbiamo fatto bene ed infine due parole sulla proprietà perché adesso da quando abbiamo venduto Kivior da quando hanno venduto Kivior non si fa altro che parlare tanto alla società ha fatto i soldi adesso vogliono il paracadute dalla retrocessione sono qui solo per fare cassa hanno incassato 30 milioni prima di tutto 30 milioni a Spezia non li ha ancora visti nessuna hanno venduto Kivior per 25 più 5 5 sono di bonus non si sa quali sono i requisiti di questo bonus che può essere conseguito come può non essere conseguito e poi si fa presto sempre a dire hanno incassato hanno incassato hanno incassato senza mai prendere in considerazione quello che hanno speso perché 30 milioni sono stati l'acquisto dell'intera società dello Spezia Calcio i vari lavori allo stadio i giocatori comunque comprati perché a gennaio siano stati praticamente la sola squadra di Serie A che ha fatto un mercato che si possa definire mercato sia in entrata che in uscita quindi il punto che sto cercando di convenire è che è semplice dire i soldi li hanno presi i soldi ce li hanno i soldi fanno brigano però non abbiamo nemmeno un'idea o perlomeno il tifoso medio non ha un'idea di cosa voglia dire gestire una squadra di Serie A cioè si diceva che 30 milioni sono soltanto gli stipendi gli ingaggi su base annua dello Spezia quindi la coperta da 30 milioni se la tiri da una parte non arriva da quell'altra cioè 30 milioni incassati non ci fai lo stadio se li usi per lo stadio non ci paghi gli stipendi se ci paghi gli stipendi non li usi per i nuovi acquisti e così via bisognerebbe ognuno è libero di dire la propria però assicurarsi di avere tutti i dati tutti i fattori prima di dire delle stranzate io ne ho già rete abbastanza quindi per oggi facciamo che la finiamo e grazie per aver seguito l'ennesimo video io mi ci dedico col cuore e grazie per il supporto gradisco l'incremento di visualizzazioni di interazioni e di iscrizioni grazie mille e alla prossima e sono sempre alla ricerca di un miglioramento spero di convenire un po' di valore attraverso questo mio contenuto al di là dell'intrattenimento ma ad ogni modo apprezzo infinitamente il tempo che mi state dedicando avanti tutta mi sembra sempre di dover imparare non sono mai sazio da apprendere il nuovo mi eccita in un paese che teme il nuovo ecco adesso mi viene dico buio così mi sparo sta luce in faccia mi fa un parpagion florescente le mie squadre giocavano d'attacco in un paese che gioca di difesa eccomi qua sono venuto dentro perché oltre a essere venuto buio si è anche messo a piovere però siamo focalizzati sulla soluzione ciao